Si è svolta questa mattina presso la sede della Facoltà di Scienze Motori in via Ugo Foscola Voghera la presentazione ufficiale del progetto di crowdfunding di Sport for Therapy. Presenti tra gli altri il magnifico rettore dell'Università di Pavia Fabio Ruggie, il sindaco di Voghera Carlo Barbieri ed il prefetto della provincia di Pavia Rosa Cesari. Il professor Ruggie rispondendo al sindaco Barbieri che aveva sottolineato l'unicità dell'evento data la presenza del magnifico rettore si è detto rammaricato per non essere riuscito a constatare personalmente prima di oggi il lavoro del progresso svolto presso l'Università dello Sport che ha definito vivace e sorprendente. Spetta al professor Giuseppe D'Antona, direttore del Centro di Medicina dello Sport, raccontare del crowdfunding il finanziamento collettivo al quale è possibile contribuire attraverso il sito www.universitiamo.eu. È un progetto ambizioso perché dobbiamo raggiungere il tetto dei 20.000 euro. Il nostro obiettivo è far capire che lo sport non è solo sinonimo di prevenzione ma che può curare le malattie. Applicando terapie sportive per patologie come diabete ed ipertensione avremmo un grande risparmio economico perché posticiperebbero la prescrizione di sostanze medicinali. Un mio grande sogno, ho confessato D'Antona e numerosi studenti presenti, è fare in modo che il Servizio Sanitario Nazionale possa rimborsare l'attività sportiva terapica. Il secondo obiettivo è invece quello di fare ricerca scientifica, dato che ci sono molti buchi e punti da chiarire nella letteratura scientifica. Il direttore ha voluto ringraziare i cittadini che hanno già contribuito al crowdfunding. Sono tantissimi, ha spiegato D'Antona, come sono numerosi anche i major bakers, ovvero le aziende del territorio e non solo, che stanno contribuendo al finanziamento collettivo. Per il magnifico rettore l'iniziativa di crowdfunding è bellissima. Alla gente si chiede di sostenere le realtà locali che servono da crescere e benessere e migliorare l'esistenza delle persone. Non sempre i cittadini percepiscono il fatto che ogni mattina giovani uomini e donne si recano nelle aule a svolgere attività di studio e ricerca per migliorare la vita di tutti i giorni. In particolare questo progetto è importante perché rende ancora più chiaro ciò che lo sport può fare per migliorare la vita di chi è stato colpito da determinate patologie. Lo sport diventa una cura, una terapia e quello che chiediamo alla gente è che tutto ciò venga finanziato e sono certo che Voghera ci darà un'ottima risposta. Questa iniziativa è una di quelle cose che fanno bene alla città, ha detto invece il prefetto della provincia di Pavia Rosa Cesari. Maria Arpesella, specialista in nutrizione dello sport presso l'istituto Vogherese, ha ringraziato i direttori degli istituti scolastici superiori. Grazie a loro e alla qualità dell'offerta formativa quest'anno abbiamo aumentato il numero degli studenti. Bisogna mettere a norma tutta la struttura e gli spazi non sono più sufficienti per contenere tutti i ragazzi. Ci sono molti passi avanti da fare ma siamo sulla buona strada. Grazie a tutti.